Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it Vigilia, vigilia di Lazio Inter, campionato che riprende sudamericani che stanno tornando già mi par di sentire, sono tutti in volo, chi vedrà questo video editoriale naturalmente quando saranno atterrati saprà che comunque sono atterrati, già mi sembra e cheggiano Cabin crew prepare for take off, insomma prepararsi per il decollo, sono decollati e quindi stanno tornando i nostri sudamericani che definirei felici e volanti, ebbene sì, felici e volanti, stanno tornando, devo dire dopo le ultime partite di qualificazione ai mondiali, il Cile ha vinto, ha strapazzato il Venezuela per 3 a 0, doppio assist di Sanchez che è stato il migliore in campo, 90 minuti per lui, bene anche Vidal, 90 minuti, non è andata bene invece la partita per Vessino, 65 minuti in campo, Brasile-Uruguay 4 a 1, Uruguay quindi letteralmente strapazzato dal Brasile, ma ci può stare, e onestamente io non essendo uruguaggio non mi preoccupo di questo, se ne preoccuperà Vessino, io non vedo l'ora che rientri, e poi gli argentini, insomma l'Argentina ha vinto un'altra grande partita, l'ha vinta molto bene con un gol di Lautaro e quindi sono molto contento che questa Argentina-Perù sia alle spalle, Lautaro ha fatto il primo gol, un gol straordinario, un gol straordinario e l'Argentina praticamente dopo questa vittoria col Perù ha già staccato il biglietto per i mondiali virtualmente, ma che è il gol che ha fatto Lautaro, Lautaro in campo per 85 minuti e dopo 5 minuti è entrato Correa al suo posto, il Tuku, quindi dobbiamo arguire che stanno tutti e due bene, perché se ha fatto 85 minuti Lautaro, e comunque anche Correa ne ha fatti 5, si è trattato di una scelta tecnica, ma erano tutte e due in grado di giocare e quindi felice volanti, i nostri sudamericani stanno tornando. Tra l'altro c'è stata un pochino di apprezzione per Lautaro, perché prima di segnare il suo gol aveva ricevuto un pestone, era rimasto a terra a contorcersi e ovviamente, siccome aveva già saltato la prima partita per sovraccarico muscolare, come poi Correa aveva saltato quella precedente, subito ci siamo preoccupati, però poi si è rialzato, ha fatto questo gran gol di testa sul primo palo, Lautaro sta facendo i gol straordinari, diciamo che poi ogni tanto ci fa preoccupare, perché sapete che gli argentini sono di diverse estrazioni, ci sono gli argentini non so come Verón, Samuel, che se anche gli cadeva in testa durante la partita una libreria di legno massiccio, a parte che si spaccava la libreria, ma questi manca una piega. Poi ci sono gli argentini un po' tangheros, che quando vengono toccati vanno a terra, si contorcono, fanno un po' di scene, di bala, un altro che quando ha avuto l'ultimo infortunio è uscito dal campo in lacrime, devo dire che Lautaro, come di bala anche lui ci gioca abbastanza, sul contorcersi stare giù, però poi riprende a giocare come se nulla fosse. Quindi ci avviciniamo a Lazio Inter, partita delicatissima, senza necessariamente, come vi spiegavo, aver bisogno dell'inzagata, l'inzagata è il colpo di genio per cui se tu non avessi disponibili tutti i sudamericani, potevi inventarti a questo punto Perisici di punta che è andato bene, quando ho giocato di punta quest'anno ho fatto anche gol, insomma non ci sarà bisogno perché la mia coppia d'attacco, come sapete ormai è anche la coppia regina con 11 gol in campionato, è assolutamente Dzeko, professor Dzeko e Lautaro. Quanti minuti avrà nelle gambe Lautaro? Noi non siamo in grado di saperlo, però se Correa lo ha sostituito in nazionale non vedo perché non possa comunque sostituirlo anche a Roma, se ce ne sarà bisogno durante Lazio Inter, dobbiamo tenere presente anche che le scelte di Inzaghi, per esempio magari far riposare Ciananoglio e utilizzare comunque a centrocampo Gagliardini, saranno in ogni caso figlie del fatto che martedì, martedì, 19 ottobre, c'è una partita che è diventata importantissima per i risultati fin qui acquisiti in Champions, perché l'Inter ha perso in casa con Real Madrid, non è riuscito a vincere in casa dello Shakhtar Donetsk e quindi ovviamente adesso a San Siro deve battere lo Sheriff, lo Sheriff dei miracoli, lo Sheriff tira su squadra moldava, chissà, sono sempre dell'idea di andarmi a vedere il ritorno di questa partita, ma vedremo, adesso intanto si gioca a San Siro, lo Sheriff ha già sei punti, dall'altra parte ovviamente martedì si giocherà poi Real Madrid-Shaktar dove credo che il risultato possa essere assai diverso da quello dell'anno scorso in cui lo Shakhtar batte due volte Real Madrid, quindi insomma dobbiamo cominciare a fare due conti, ma al di là dei due conti dobbiamo assolutamente cercare di fare sei punti con lo Sheriff in Champions, cioè vincendo sia San Siro sia là, poi magari là non sarà determinante, per poi battere in casa lo Shakhtar Donetsk, a quel punto dovremmo avere buone chance di passare il girone di Champions, ma di tutto questo avremo tempo di parlare dopo Lazio-Inter, questa ottava giornata di ripresa del campionato è una giornata sulla carta favorevole al Napoli, capoclassifica con 21 punti che ospita il Torino e al Milan che gioca in casa con il Verona, è un Milan rabberciato che ha perso Magnan, secondo alcune indiscrezione il caso di Covid di Teo Hernandez potrebbe non essere l'unico, ma per carità al momento queste sono le notizie, è un Milan con tanti indisponibili e un Milan che a sua volta poi dovrà fare i conti, ovviamente per la partita di Oporto perché poi è impegnato anche in Champions League, proprio nel giorno dell'Inter lì bisognerà vedere e capire in sede rossonera quale ritengono essere la partita più importante, io credo che l'obiettivo del Milan sia quello naturalmente di provare a dar fastidio a tutti in campionato e di tenere la sua classifica, però dico agli interisti non preoccupiamoci se in questa giornata, ripeto la giornata numero 8, Napoli e Milan dovessero allungare un pochino perché Juventus-Ruma è una partita senz'altro più delicata di Milan-Verona per la Juventus come Lazio-Inter una partita senz'altro più delicata ovviamente di Milan-Verona o di Napoli-Torino, quindi ci sta per quelli che si preoccupano sempre di tutto, invito naturalmente a consultare la classifica un anno fa che era peggiore, certo siamo legati alle condizioni dei sudamericani, d'altronde quando i sudamericani lo sai, sei in apprensione, volano per ore e ore e ore, possono subire il jet lag, chiaro che non viaggiano in classe economica, però i cilieni dovrebbero già arrivare questa sera e quindi è una cosa positiva, domani gli argentini, però insomma tra stasera e domani noi dovremo cercare, o meglio lo staff Inter dovrà cercare di capire quali sono le condizioni fisiche, però ripeto, io credo che anche Sanchez, lamentoso che è tornato, ha fatto due assi, sia stato il migliore in campo in Cile Venezia, possa essere contento e cercare magari di darci una mano anche all'Inter invece di pensare solo a lamentarsi, perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti, stesso discorso naturalmente per Vidal, che comunque mi sembra si sia messo ovviamente non è il Vidal che pensavamo di avere, lo dico per la centesima volta, ma insomma se non altro non fare danni e cerca di dare una mano e poi Lautaro rinfrancato ovviamente da questo gol non può che essere felice, figurati Lautaro felicissimo per questo 1-0 all'Argentina e quindi li abbiamo felici e volanti, come dico, bene ragazzi adesso che siete tornati, tra poco i voli atterrano, è ora di pensare alla nostra Inter e di andare a Roma cercando di smentire i pronostici, perché la partita è difficile, ha uno scontro diretto in trasferta e sarebbe bello vincerla, ciao a tutti, viva l'Inter e a presto!